La vita va dal basso verso l'alto, così ci ha mostrato Bruno Gröning, poi va di nuovo in basso e poi verso l'alto, poi purtroppo va di nuovo giù e poi risale e da qui ad un certo punto va proprio in alto. Allora ce l'abbiamo fatta. L'abbiamo fatta. Ma quanto sei caro, quanto sei buono, questo è ciò che desideriamo. Bruno Gröning ci ha mostrato che la vita va così? Cari amici, chi lo pensa, ora avrei quasi detto che è un pazzo, ma non lo è. Le cose non stanno così. La vita va diversamente. La vita va dal basso verso l'alto, come ci ha mostrato Bruno Gröning, e poi scende, poi risale e poi purtroppo riscende di nuovo e poi risale. E da qui ad un certo punto va proprio in alto. Allora ce l'abbiamo fatta. Non si scende più così in basso, ma si sale sempre un pezzetto. Non si scende più tanto in basso e si sale ancora un pezzetto. Questa, cari amici, è la vita. E questa è anche la lotta nella vita che ci aspetta. Ma noi siamo forti e dobbiamo vincerla, uscirne vincitori, indipendentemente da dove si svolge, cari amici. Con questa lotta avanziamo. Noi abbiamo un amico al nostro fianco, che ci porta alla sommità. La cosa bella, cari amici, quando c'è una discesa non ci abbandona, dicendo vai pure laggiù, quando sei in alto ti riprendo. Bensì attraversa con noi ogni valle. Ci accompagna attraverso la valle. E ci accompagna anche in alto. Non lasciamo mai andare questa mano. Cari amici, non perdete mai la fede. Che anche la vostra famiglia proceda sulla via giusta. Non perdete fiducia nel vostro partner, dicendo, ah, questo o quella, classificandolo. Non arrendetevi mai, cari amici. Possiamo conservare la pace se non vogliamo sentirci feriti. Possiamo sempre pregare Bruno, quando vuole emergere il sentirsi feriti, dicendo, stop, 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 stop. Non voglio sentirmi ferito, indipendentemente da come mi ha guardato. Non mi importa. Io non sono ferito. Io non posso essere ferito. E allora c'è la pace. Io non posso essere ferito.